Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui su OMSI2 Oggi siamo qui sulla mappa Merino, che è una mappa italiana come di San Giovanni E siamo qui con un bel man della Sasa Vedete il trasporto è integrato al toarege Io intanto ho già acceso a la recondizionata, come sentite E la temperatura si sta abbassando, infatti prima era 25, adesso è 23 Quindi noi partiamo tra 4 minuti, intanto noi carichiamo queste persone Poi ci spassiamo un po' più avanti Bene Ok, ci mettiamo proprio avanti, fino a qua, ecco Aspettiamo questi 2-3 minuti E mandiamo avanti qua 45 E qua, ci saranno tutti adesso Salve, salve Tanto qui c'è la recondizionata accesa Perché sui nostri autobus funziona E ovviamente teniamo la finestra chiusa Vedi, vedete, la temperatura è scesa da 22-23 Cioè, da 23-22 E quindi La recondizionata funziona Su OMSI bene, funziona anche Questo autobus è un po' vecchio Infatti non va molto veloce Non ha una buona ripresa Ciao 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 Buona qua, linea 3 A sinistra Ciao 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 Grazie a tutti. Alù, buongiorno. Alù. Buongiorno. E qua a sinistra si va. E qua. Fa un po' di fatica. E qua ci va. Collega. E qua, fermata a merino centro. Fermata a merino centro. Ho già prenduto la fermata. Sta bene. Alù. Alù. E qua. Semmaforo rosso. Semmaforo rosso. E siamo a un minuto di ritardo. Devo recuperare lo sto minuto. E qua. Vai, su Queste viette classiche italiane abbastanza strette Scusatemi Infatti qua solo autobus piccoli dobbiamo guidare Perché state sono abbastanza strette Autobus massimo 12 metri Perché sennò Quelli da 18 non ci passano Quindi Sarebbero meglio dei minibus Ma la Sasa ancora Non c'è Assolutamente non esistono ancora minibus della Sasa Che posso omologare per la Sasa Sì Mamma mia Una curva in discesa Non è mica Chissà che cosa Allora 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 Andiamo qua San Giovanni Andiamo ancora un po' avanti Queste viuzze Bellissime Da guidare Ecco qua Siamo arrivati Perfetto Perfetto Allora Adesso facciamo il ritorno Anche Va dire che possiamo fare anche il ritorno Quindi tre Torre Bovo E partiamo Da subito E partiamo Oddio, ha spento il motore Ok, dai, sempre sto venuto in dettardo, dai, ci siamo andati a fare una volta rossi Vedo che l'altro è ancora verde, quando diventa lancione può stare anche a partire Però per la sicurezza dei passaggeri, aspettano ancora un po' Guarda che diventa verde da me Agua, no Buongiorno, buongiorno Bravi, bravi, ho metterato il biglietto Mamma mia che è riparato che la sto autobus sia lenta, eh Fa un bel rumore, ma una pesa lenta Buongiorno 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 Salve. 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 Allora, pure qui lo becchiamo rosso, mamma mia. Dai, verde, diventi. Oh, bene. Bene, bene. Su, su, devo recuperare un minuto di ritardo. Dai, obliterate, andate. Buongiorno, buongiorno. Aspetta che in questa mappa qua, città qua, non si riesce a raggiungere 50 km l'aria. O c'è una curva, o c'è una fermata, o c'è un semaforo come qua. Buongiorno. 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 Ups, un po' male messo, mi sono messo male un po'. E' qua, ultima fermata, torre povo. E' qua, ultima fermata. Ebbene sì ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio. Io concludo qui questo episodio, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete questo video, mi raccomando più che potete. E ragazzi, non mi resta altro che dirvi, ci vediamo. E ciao a tutti, mettete like, mi raccomando eh. Ciao. Ciao.